Oltre il mio canto, e il Signore, che mi mi asfaltate, oltre il mio canto, e il Signore, che mi hai vintuto. La nostra Vesta non deve finire con te, finire con tu ta. Per me e la terra e la terra sia un demonio sui figli. Allora, è vero secondo Luca. Allora, è vero, Sessore. In quel tempo, Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafarna. Il secolo di un centurione era malato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto grande. Perciò quando stai a parlare, mi piaccia, gli mandò un'opportunità di rivolgere. Pura il tuo diritto, io non sono degno. Ma Gesù dice, Gesù, se io non sono degno, ma di soltanto una parola che io possa essere guarito. Ma non sono degno. Allora, queste parole mi riconosceranno questo loro progetto. Ricordate un augurio che è, come stavolta il mio lavoro in casa, un augurio che teniamo da tutti coloro che vogliamo presentare un'attività scopedistica, un'attività di cui non si va bene i defunti, ma così anche ti presentiamo quello che ha bisogno, ecco, della tua intercessione per essere guariti, per essere gratificati con il solito scritto, perché ne sono coppiti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Siamo qui adorati, qui per adorarti, qui per il mio piede. Vogliamo insolvere il mio padre di stare vicino con te, che vogliamo affidare su tutti i nostri bisogni, che vogliamo affidare tutte le chiese e le grazie. Dobbiamo più occuparci delle due cose, di quello che tu ci dici, delle due parole che sono spirito e vita. Darci sempre, Signore, questo pane, perché per noi è pane divina, la parola è pane divina. Signore, ecco, vogliamo voler camminare, Signore, facci il tempo sempre del tuo amore. Come c'è, Signore, a te noi, se sentiamo indegni, ma abbiamo la certezza che tu non ci lasci da solo. E allora aiutaci, Signore, a camminare nella verità, a camminare verso la santunità. Signore, a te noi, se sentiamo indegni, ma abbiamo la certezza che tu non ci lasci da solo. Signore, a te noi, se sentiamo indegni, ma abbiamo la certezza che tu non ci lasci da solo. Signore, a te noi, se sentiamo indegni, ma abbiamo la certezza che tu non ci lasci da solo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.